Io sono un attore che viene da una lunga esperienza teatrale, poi mi sono avvicinato al cinema. In media faccio un film all'anno. Noi siamo a guardia della legge, che vogliamo immutabile, scolpita nel tempo. Quella cosa che vedevo era più vera del vero, ma capivo anche che c'era un divertimento di gioco attoriale. Perché secondo me capisci che cosa è stato a volontà se tu vedi Caravaggio. È la nascita dell'attore moderno in Italia. Grazie, Edissimo. Grazie della gentilezza.